Buongiorno a tutti quanti, per che cosa è Tenerife? Nuovamente un caffè con la panna in compagnia di chi? Dei nostri amici Buongiorno Qui di lato c'è un'altra, la cara Samantha e oggi vi racconteremo qualche cosa Oggi chi vi racconteremo? Non lo so, stiamo preparando, abbiamo fatto un filmato molti mesi fa Sì, molti mesi fa Molti mesi fa, però poi Perché siamo sempre incasinati Sempre incasinati, però adesso piano piano Le cose cominciano a diventare più chiare Sì Sì, la grande emigrazione italiana Vi aspettiamo, siamo pronti Qualsiasi cosa avrete bisogno Nosotros Ve lo troviamo Stavo scherzando, benissimo Allora, che vogliamo dire? Che facciamo? Siamo qui? Vi aspettiamo? Vale Siamo pronti? Bene Adesso Tutto quello che vi serve Qui è il nostro amico Emilio Buongiorno Emilio, un grande parrucchiero italiano Che con tutta la sua famiglia Si è trasferito E stiamo intentando A seguire questo cambiamento di vita Oh, è buono sto caffè con la panna Caffè con la panna L'inviato speciale Francesco Cavalloni E l'inviata speciale Samantha Labbate Ci sentiamo alla prossima puntata Ciao